Questo video è sponsorizzato da JLC PCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. L'azienda è leader mondiale nella produzione di circuiti stampati ed usa macchinari di ultima generazione per garantire un elevato standard di qualità. Potrete ordinare al costo di soli 2 dollari 10 prototipi con un tempo di produzione di soli due giorni. Basta fare l'upload dei file Gerber sul sito, specificare i dettagli costruttivi e le quantità e attendere. Ciao a tutti, siccome in molti mi chiedono anche sul forum come si progetta una bobina di Tesla di tipo SGTC, quindi quelle a spark gap, ho deciso di fare questo tutorial dove ho preso le mie note di progetto delle due bobine che ho realizzato da 500 watt e da 1 kilowatt e cerco di dare una procedura in passi con le formule per il calcolo e il dimensionamento di queste bobine. Infatti in rete esistono diversi software che fanno i calcoli in maniera automatica fornendo le varie caratteristiche come Ghost Tesla o Java TC, soltanto che ritengo opportuno ripercorrere le formule e calcolo manuale per cercare di interpretare bene qual è il significato dei parametri e capirne soprattutto il funzionamento, perché usare un tool per tentativi magari può creare dei problemi, nel senso che se non si capisce bene il funzionamento delle bobine si può incappare poi in guai, soprattutto se teniamo conto che sono oggetti ad alta tensione e possono essere anche molto pericolosi, per cui fin da subito vi avverto di fare questi dimensionamenti sempre con la massima attenzione alla sicurezza elettrica. Questo è lo schema di riferimento che utilizzo per le mie bobine, quindi partendo dall'ingresso dove abbiamo la tensione 230 volt, ho indicato la fase e il neutro, neutro a terra in un sistema di distribuzione domestica, incontriamo un Variac. Questo oggetto è un autotrasformatore che mi è comodo perché mi permette di fornire una tensione variabile tra 0 e 230 volte alternate alla mia bobina, soprattutto in una prima fase è molto importante per non far funzionare la bobina a pieno carico fin da subito. Dopodiché incontriamo un filtro EMI che è il classico filtro che trovate anche negli elettrodomestici e serve a proteggere la rete elettrica da eventuali disturbi generati dalla bobina di Tesla. Di solito si compone con una bobina di modo comune e dei condensatori che sono posti o tra fase e neutro o tra la terra e fase e neutro. Di solito questo viene in scatolato e viene posto appunto in seguito al Variac. Poi abbiamo un interruttore di protezione che di solito è un magneto termico per evitare eventuali sovraccarichi introdotti dalla nostra bobina di Tesla e qua ho rappresentato anche un pulsante perché in realtà in serie al magneto termico è bene utilizzare un pulsante per far funzionare tutta la nostra bobina di Tesla. infatti conviene che le scariche vengano emesse solo su volontà dell'operatore quindi solo quando il bottone viene premuto. Vi sconsiglio assolutamente di creare invece un oggetto che una volta chiuso un interruttore va in maniera continua quindi usate solo il bottone di azionamento. Poi incontriamo un condensatore che è il PFC quindi il Power Factor Corrector che viene utilizzato per rifasare il nostro carico. Infatti noi sappiamo che la bobina di Tesla dal punto di vista dell'energia reattiva va a sfasare corrente e tensione per cui questo condensatore ci permette di fare vedere alla generazione dell'Enel una tensione corrente un pochino più adatta. Poi incontriamo il trasformatore elevatore NST di solito infatti viene prelevato da insegne luminose al neon quindi il neon signum transformer è un trasformatore che porta la 230 volt di ingresso a una tensione di diversi kilovolt. A seconda del tipo di potenza e della bobina che si vuole realizzare tipicamente questo trasformatore va dai 2000 volt fino anche a 10.000 e oltre. Per una bobina di questo tipo SGTC io vi sconsiglio di utilizzare trasformatori di riga della televisione tipo flyback o anche trasformatori MOT in quanto sicuramente avranno dei problemi di durata perché le correnti che andremo ad assorbire e dopo faremo i conti vedrete che sono notevolmente elevate. Quindi il miglior candidato è un trasformatore di tipo NST che di solito si presenta in monoblocco resinato per poter appunto sopperire e reggere alle alte tensioni soprattutto in uscita. Poi incontriamo il filtro di protezione del trasformatore NST. Infatti sappiamo che la bobina di Tesla innesca delle risonanze e delle extracorrenti estremamente elevate per cui per proteggere il nostro trasformatore da queste correnti si pone in serie questo filtro che solitamente è un filtro di tipo RC, passa basso. Infatti vedete che abbiamo una resistenza serie sui due rami e due condensatori sul ramo che va verso la terra. Quindi le alte frequenze di risonanza che si vengono a generare qui verranno cortocircuitate da questi condensatori del filtro e attenuate dalle resistenze. Di solito poi abbiamo anche delle resistenze in parallelo a questi condensatori perché questi condensatori dovendo tenere un'alta tensione in genere sono costituiti dalla serie di molti condensatori. Quindi queste resistenze vengono messe al fine di equalizzare la tensione tra i diversi condensatori e anche di scaricare la carica accumulata su questi condensatori una volta che la bobina ha smesso di funzionare. Dopo troviamo lo spar gap e quindi è un insieme di elettrodi posti a certa distanza che innescherà l'arco una volta che la alta tensione che è arrivata dal trasformatore NST raggiunge i condensatori della bobina di Tesla e la tensione ai capi diciamo di questo risonante raggiunge un certo valore. Quando la tensione presente su questi due punti supera la tensione di rottura del dielettrico dell'aria ecco che si innesca quindi la scarica fra questi elettrodi e si viene a chiudere questo circuito LC che è il cuore del funzionamento della bobina di Tesla chiamato circuito di primario. Esso è costituito da un condensatore di risonanza che solitamente è creato con più condensatori e il primario della bobina di Tesla. Quindi una volta che la tensione al condensatore ha raggiunto un livello tale da far innescare lo spar gap il condensatore e la bobina cominciano a entrare in risonanza ossia cominciano a palleggiare energia fra di loro quindi energia che nel condensatore è immagazzinata sotto forma di campo elettrico e energia che nella bobina è immagazzinata sotto forma di campo magnetico. Questo scambio continuo di energia alla frequenza opportuna di risonanza crea una extra corrente di risonanza che sarà poi la causa primaria dell'accoppiamento di energia al secondario. Quindi questa corrente ad alta frequenza per induzione elettromagnetica trasferisce energia al secondario il quale è costituito da un altro avvolgimento L2 e una capacità costituita da questo top load che è il cappello superiore della bobina di Tesla più le capacità parassite che si trovano su questo avvolgimento. Ecco che se la frequenza di risonanza di questo gruppo L2C2 è proprio uguale alla frequenza di risonanza di L1C1 abbiamo che il trasferimento di energia fra primario, secondario e massimo e questa energia viene scambiata in maniera mutevole quindi passa dai due risonanti avanti e indietro. Quindi una volta che è stata trasferita energia da questa parte torna poi anche indietro con risonanze secondarie sulla parte di primario. È bene ricordare che queste due bobine non costituiscono un vero e proprio trasformatore ma sono da considerarsi due bobine mutuamente accoppiate cioè con un fattore di accoppiamento anche abbastanza basso. Abbiamo sicuramente una trasformazione di impedenza perché sul primario abbiamo una corrente di risonanza molto elevata e una tensione ai capi di questa bobina tutto sommato bassa. Viceversa al secondario abbiamo una corrente che scorre su questo risonante bassa e una tensione invece ai capi di questa bobina molto elevata. Una tensione così elevata rispetto alla terra RF a radiofrequenza e il resto del mondo produce un campo elettrico così elevato tale da poter innescare delle scariche in aria. La lunghezza delle scariche, il tipo e la potenza dipendono moltissimo da come viene realizzata questa terra chiamata appunto radiofrequenza che è diversa dalla terra che abbiamo visto prima che è la terra di sicurezza. Infatti questa connessione di terra influenza la capacità di risonanza della bobina stessa per cui è importante che ci sia accordo perfetto tra le due bobine. Per aumentare l'efficienza delle scariche inoltre è opportuno fare in modo che ci sia una risonanza cosiddetta a quarto d'onda e questo lo si ottiene se la lunghezza magnetica di questa bobina è proprio uguale a un quarto della lunghezza d'onda abbinata alla risonanza di questi due oggetti ma questo lo vedremo dopo nei conti. Qui ho riportato i sei passi che andremo a seguire per il dimensionamento della bobina di Tesla. Come prima cosa andremo a specificare qual è la lunghezza delle scariche che vogliamo ottenere e di conseguenza la potenza della bobina perché sono due grandezze strettamente legate. Poi andremo a scegliere il trasformatore NST quindi quello che eleva la tensione da 230 volt a diversi kilovolt e andremo a dimensionare il condensatore C1 a seconda del modo di funzionamento della nostra bobina. Poi andremo a calcolare l'induttanza L1 della bobina di primario cioè quale deve essere l'induttanza che vogliamo e quindi anche la sua forma costruttiva e dopodiché lo spark gap quindi andremo a dimensionare questi elementi per capire qual è la distanza giusta per fare intervenire il nostro condensatore e la nostra bobina. Fatto questo andremo a dimensionare la bobina di secondario e quindi calcoleremo l'induttanza di secondario L2 e anche la capacità di secondario C2 quindi questo ci permetterà di dimensionare il top load quindi il cappello capacitivo qui in alto sulla bobina. E in ultimo andremo a dimensionare gli elementi accessori che comunque sono fondamentali per il funzionamento della bobina quali il filtro di protezione del trasformatore questo NST filter il PFC quindi il condensatore di rifasamento e safety spark gap cioè degli altri spark gap che andremo a piazzare nella bobina per proteggere i nostri componenti da eventuali guasti e sovratensioni. Cominciamo dal primo passo diciamo che la lunghezza delle scariche in centimetri è legata alla potenza in ingresso alla mia bobina da questa formula una formula che ha escogitato John Frehaw 4,32 per la radice quadrata della potenza in ingresso e otterremo la lunghezza delle scariche in centimetri. Per tutto il dimensionamento prendo ad esempio la mia bobina di Zeus di cui vi lascio in descrizione i link sulla playlist dei video costruttivi. In questo caso abbiamo che la potenza di ingresso è data dalla tensione di ingresso per la corrente di ingresso del trasformatore NST. Nel mio caso io ho un 10.000 volt 100 mA come trasformatore e quindi la potenza di 1 kW. Andando a sostituire 1 kW le lunghezze di scariche massime alle quali posso aspirare sono di 136 cm. Il secondo passaggio prevede il calcolo della capacità di risonanza al primario C1. Come prima cosa dobbiamo calcolare l'impedenza del trasformatore e lo facciamo facendo tensione e corrente del trasformatore a rapporto. Quindi 10.000 volt diviso 0,1 A il nostro trasformatore ha un'impedenza equivalente di 100 kOhm. Poi andiamo a calcolare qual è quel valore di capacità che risuona con il nostro trasformatore alla frequenza di alimentazione del trasformatore. In Italia abbiamo che la frequenza di rete è 50 Hz e quindi la capacità sarà uguale a 1 su 2π per 50 Hz per l'impedenza che abbiamo appena calcolato. Se vado a sostituire questi numeri dentro la formula otterremo che la capacità di risonanza a 50 Hz col nostro trasformatore è di 31,84 nF. Lavorare esattamente con questa capacità può essere pericoloso perché appunto siamo in risonanza. Quindi quello che andremo a fare è a selezionare un valore di capacità che ci sposti dalla risonanza. Io ho utilizzato l'approccio chiamato LTR, cioè Larger than Resonate. Quindi selezionare un condensatore che abbia un valore maggiore e quindi spostarci dalla risonanza. Essendo 31,8 il mio valore io ho selezionato 45 nF come valore della capacità di primario. La costruzione di questo condensatore è fondamentale perché in base alla qualità del condensatore la nostra bobina funzionerà meglio o peggio. Io ho realizzato questo 45 nF facendo il parallelo di tre rami. Ogni ramo è costituito da 10 condensatori del valore di 150 nF. Di modo che così ho dei rami da 15 nF che messi in parallelo mi danno appunto i famosi 45 nF. Ogni condensatore è in grado di reggere 2000 volt in continui per cui la serie dei condensatori reggerà in tutto 20.000 volt. Questo è importante perché ovviamente il condensatore deve poter reggere una tensione ben superiore a quella che gli viene data dal trasformatore di ingresso. La massima tensione a 50 Hz che mi posso aspettare sul condensatore la calcolo facendo il valore in ingresso della tensione quindi il 10.000 volt a 50 Hz che è un valore rms per 1,41. Infatti essendo una sinusoide in questo modo ottengo il valore di picco che è di 14.100 volt. Io quindi ho selezionato un valore di 20.000 volt per avere sufficiente margine su questo valore. Infatti considerate che rispetto a questo valore di calcolato il valore reale che poi andrete a vedere sul condensatore è ben più elevato per tutta una serie di questioni. Il condensatore deve essere di ottima qualità e quindi sarà abbastanza costoso. In particolare io consiglio di utilizzare condensatori in olipropilene e andare a guardare il parametro dv su dt cioè quanto è capace di sopportare variazioni della tensione rispetto al tempo molto veloci. Questo è un dato che troverete sul datasheet e andremo a vedere dopo quanto vale nel nostro caso. Ora calcoliamo che induttanza deve avere il primario. Per farlo impostiamo una frequenza di risonanza di 100 kHz della nostra bobina di Tesla e questa vedremo che influenzerà le dimensioni della bobina e andiamo a prendere il valore di capacità calcolato prima. Andando a sostituire in questa formula otteniamo una induttanza per il primario di 56,3 µN. Ora che sappiamo qual è il nostro valore di induttanza dobbiamo costruire la bobina di primario. Nel mio caso ho utilizzato una bobina piana per cui un tubo di rame avvolto a spirale con questa forma geometrica. Per questa geometria esiste una formula che è questa qui che ci dice qual è il valore di induttanza in aria assegnato il numero di spire N, il parametro R che è il raggio, è la media del raggio quindi il raggio massimo più il raggio minimo diviso 2 e W che è la larghezza delle spire praticamente. Quindi dalla prima spira all'ultima misurati in questa maniera e W. Facendo qualche tentativo, cambiando quindi il numero di spire, la geometria, i raggi e le distanze, ottengo che con 7 spire e queste dimensioni ho 26.6 µN, quindi troppo basso. Aumentando il numero di spire a 9, sono a 46, alla fine con le misure che ho scelto io avrò un numero di spire pari a 10 e una bobina che avrà un ingombro alla fine con un diametro pari a 1,20 m e un diametro interno di 20 cm, quindi bella grande. Impostando quindi un raggio interno di 14 cm, un raggio massimo di 52 cm e una larghezza delle spire, diciamo del pacco spire pari a 38 cm, ottengo 59.7 µN e una frequenza che è poco sotto a 100 kHz. In realtà questi conti poi andranno verificati sperimentalmente. Considerate sempre che la frequenza di risonanza andrà trovata un punto intermedio dell'aspira, quindi andremo a prendere una presa. Lo spar gap è un elemento molto importante perché è quello che innesca l'arco e chiude il risonante, quindi più diventa resistivo questo elemento, più la bobina avrà dei problemi a fare delle scariche lunghe. Quindi per avere un'ottima efficienza io l'ho realizzato con dei tubetti di rame lunghi circa 20 cm, posti a una distanza calcolata in base alla massima tensione di ingresso. La regola che ho seguito è di montare un numero di tubetti pare al numero di kV, quindi siccome la mia tensione di picco che abbiamo visto prima è 14 kV, il numero di tubetti sarà pari a 14. Poi vi consiglio di utilizzare la versione con il coccodrillo, quindi andare a fermare questi tubetti con dei coccodrilli, in modo che sia facile tararli. Vi lascio in descrizione il link con lo spar gap realizzato. Questo è importante perché a seconda delle distanze che andrete a selezionare sullo spar gap, andrete a decidere quanto sarà carico il condensatore di risonanza. Quindi più saranno vicini, più il condensatore si caricherà poco e le scariche saranno piccole, viceversa allontanandoli alla distanza giusta per l'innesco dell'arco, il condensatore si caricherà sempre di più. Dovrete stare attenti a non distanziarli troppo perché sennò rischiate di fornire una tensione al condensatore troppo elevata. Ora andiamo a dimensionare la bobina di secondario. È un cilindro che ha un'altezza di H e un diametro di D. Il rapporto ottimale fra le dimensioni geometriche per la bobina di Tesla è un rapporto H su D che varia da 3 a 5. Per calcolare il numero di spire noi sappiamo che dobbiamo avere un numero di spire in aria tali per cui la induttanza che otterremo in risonanza col condensatore di top load abbia lo stesso valore e il più possibile vicino alla frequenza di risonanza che abbiamo calcolato sul primario. Poi c'è un altro discorso molto importante che è l'accordo in quarto d'onda, come viene detto. Cioè dovremmo fare in modo, se possibile, che la lunghezza magnetica, quindi la lunghezza proprio fisica del mio avvolgimento, sia tale che la sua lunghezza d'onda diviso 4, quindi questa lunghezza magnetica diviso 4, sia proprio uguale al rapporto fra la velocità della luce C e la frequenza di risonanza. In questa maniera sapremo che l'accordo tra la bobina di secondario e la bobina di primaro avviene proprio a un quarto d'onda, cioè le dimensioni geometriche di questa bobina di secondario rispettano proprio la lunghezza d'onda a cui risuona la mia bobina. Se faccio questo è come se avessi due antenne accordate a quarto d'onda, cosa che più di cento anni fa Marconi aveva già scoperto essere il trucco per trasferire con massimo di efficienza l'energia fra due antenne irradianti poste nel vuoto e nell'aria. Nel caso specifico della mia bobina di Tesla Zeus da 1 kilowatt, questi sono i miei numeri magici. Ho un diametro di 20 cm, un'altezza di 90 cm di secondario, 1267 spire, a volte con filo 0,71 e questo è importante sia per il discorso di portata in corrente ma poi anche dell'ingombro che vado a portare qua sul secondario. Andando a mettere questi numeri, quindi le spire, la lunghezza dell'avvolgimento salta fuori con queste dimensioni geometriche 795 metri. Andando a sostituire in questa formula ho che la mia frequenza di risonanza, guarda caso, è proprio 100 kHz e quindi ho fatto in modo di rispettare l'accordo a quarto d'onda. La bobina secondaria così realizzata ha un'induttanza in aria misurata di 55 µH. A questo punto posso passare all'ultima parte che è quella del dimensionamento del top load, quindi il cappello capacitivo. Devo considerare una capacità C2 per questo cappello capacitivo tale per cui con l'induttanza di 55 µH che abbiamo appena calcolato ci abbia una frequenza di risonanza proprio di 100 kHz. Quindi la mia C2 sarà uguale a 1 su 4 pi greco frequenza al quadrato per l'induttanza L2. Andando a sostituire coi miei numeri ottengo una capacità di circa 53.8 picofarad. Attenzione perché questa capacità non è solo quella del top load ma è quella del top load più tutte le capacità parassite che ci sono tra spira e spira sulla bombina di secondario e anche le capacità parassite che ci sono con la terra a radiofrequenza. Perché ricordiamoci che la bobina di secondario oscilla fra l'avvolgimento di secondario e tutta la capacità distribuita che si trova intorno a lei. Quindi il valore di capacità del top load dovrà essere estremamente inferiore. Inoltre bisogna considerare anche questo che quando la bobina è in scarica la scarica non fa altro che abbassare la frequenza di risonanza in quanto aumenta la capacità. Di questo fenomeno bisogna tenere conto quando si accordano primario e secondario. Cioè bisogna fare in modo di accordare la bobina di secondario ha una frequenza un po' superiore di modo che quando sarò in scarica questa si abbassa ed entra esattamente la frequenza di risonanza. Ma queste operazioni faranno parte probabilmente di un altro video dove andremo a parlare di come si fa la taratura in risonanza della bobina di Tesla. Una volta costruito l'avvolgimento di secondario si possono caratterizzare le sue grandezze fondamentali. Nel mio caso ho misurato 55.5 mAh, scusate prima ho messo microAh nei calcoli ma evidentemente mAh e una resistenza in continua di 30 Ohm. Vuol dire che la resistenza offerta dall'avvolgimento è pari a questo. Posso definire il fattore di merito di questa induttanza come il rapporto fra ωL e R dove ω è la pulsazione, quindi 2π per la mia frequenza di risonanza per il valore di induttanza diviso 30. Ho un fattore Q di 959, cioè molto elevato, che significa che questa induttanza praticamente ha un'ottima qualità, nel senso il rapporto fra la parte reattiva e la parte resistiva è molto elevato. A dire il vero, quando si fa il calcolo bisogna tenere conto anche dell'effetto pelle, perché a questa frequenza noi sappiamo che la resistenza che viene incontrata dalla corrente non è quella solo del pieno conduttore, ma la corrente tende a scorrere su una corona circolare per cui questa resistenza tipicamente aumenta. Adesso qua non stiamo a entrare nei calcoli di dettaglio, comunque sicuramente all'effetto finale di questo l'effetto pelle non farà altro che aumentare questa resistenza e quindi calare il fattore Q. Ora dimensioniamo il filtro NST, cioè quel filtro che deve proteggere il trasformatore di primario, questo NST, dalla alta energia in risonanza della bobina di Tesla. In pratica è un filtro passabasso che affida la sua risposta a una resistenza serie distribuita sui due rami e una capacità che viene messa in parallelo praticamente all'avvolgimento, di modo che tutta la radiofrequenza prodotta dalla bobina di Tesla venga ad essere attenuata e cortocircuitata praticamente da questa capacità. Nel mio caso specifico ho selezionato per la R un valore di 3420 Ohm totali distribuite su due rami, in pratica tre resistenze in serie da 570 Ohm su questo ramo e tre resistenze in serie da 570 Ohm su questo ramo bilanciate. Per quanto riguarda la capacità ho selezionato 15 condensatori da 6,8 NF tutti posti in serie, perché poi non dimentichiamoci che questo condensatore deve reggere anch'esso i 20.000 V. In questo caso i condensatori hanno una capacità totale, se calcolo le serie, di 0,45 NF. Andando a sostituire questi valori dentro la formula vedo che la frequenza di taglio del filtro è di circa 103 KHz, il che significa che a meno 3 dB, cioè al 70% del segnale, il mio filtro attenua a questa frequenza. Quindi siccome la mia frequenza di risonanza è 100 KHz, so che a 100 KHz abbiamo già un'attenuazione di 3 dB. Ovviamente il filtro può essere ancora più selettivo, per cui si può aumentare la capacità o la resistenza. In particolare sulla resistenza vi consiglio di dimensionare bene la potenza, perché qua le correnti in gioca saranno molto elevate. Quindi andate a selezionare delle resistenze con un buon wattaggio, tipicamente 25-50 W. Anche i condensatori andranno selezionati di buona qualità, quindi anche in questo caso vi consiglio dei polipropilene. Dimensioniamo ora il valore della capacità PFC. Se vi ricordate è quella che serve per rifasare il carico, per cui si trova in parallelo proprio al trasformatore. La formula è data dalla potenza gestita, diviso 2πf, che è la frequenza di rete in questo caso, per la tensione di rete, che nel nostro caso è 230 V. Andando a sostituire 1 kW, che è la potenza che stiamo gestendo, otterremo che il condensatore di rifasamento deve avere un valore di 60 µF. Perfetto, con questo è tutto. Spero di non avervi annoiato troppo, ma il mio scopo era quello di fare un breve video con il riassunto delle formule principali per il dimensionamento per capirne soprattutto il significato. Per i dettagli costruttivi sulle mie bobine vi lascio sempre in descrizione il link delle playlist dove troverete in vari episodi la costruzione delle varie parti di queste bobine. Con questo è tutto, io vi saluto e se il video vi è piaciuto, come sempre, un bel pollice in su. Ciao e alla prossima! Ciao!